Ben ritrovati, amici e amici di Sette in Punto, si ricomincia una nuova settimana insieme, la prima di febbraio, siamo all'indomani di una domenica caratterizzata dal bel tempo, il sole e in qualche modo le domeniche come vedrete in questa prima parte della nostra puntata hanno un peso significativo perché andremo a parlare di esercizi commerciali, di crisi anche del commercio, riferite in particolare al momento ma anche a quanto sta succedendo sul fronte proprio delle aperture nei giorni festivi. E lo facciamo con una qualificata, autorevole presenza che ringraziamo di essere con noi in studio questa mattina, è stata di Maurizio Franceschi, direttore di Confesecenti del Veneto. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Grazie di essere con noi. Noi abbiamo voluto intitolare, vabbè, in maniera se vuole un po' brutale questa prima parte riservata alla sua presenza, chiamando Serranda Critica a questo momento, perché in effetti è un momento in cui per Serranda si intende, insomma, quell'immagine che identifica la realtà commerciale, è un momento veramente difficile sotto tanti aspetti. Voi proprio una decina di giorni fa, non lontano dai nostri studi, nell'ambito di un convegno avete discusso uno dei nodi principali della vostra attività, quella delle aperture domenicali. C'è un dato incontrovertibile che poniamo subito alla sua attenzione, cioè il fatto che anche il governo Monti non abbia molto aiutato la vostra categoria, in particolare quelle degli esercenti di esercizi commerciali, togliendo la delega alle regioni per decidere anche proprio in materia di apertura domenicale. Sì, diciamo che il provvedimento del governo Monti fatto all'inizio del 2012 ha liberalizzato le aperture domenicale e gli orari, si può aprire 24 ore su 24, si aprono tutte le domeniche, Pasqua e Natale compreso. Ovviamente questo è un provvedimento che noi abbiamo immediatamente contrastato e non abbiamo condiviso. E a distanza di un anno che potremmo definirla di sperimentazione, possiamo in qualche modo fare un bilancio. Un bilancio è un bilancio che non è di parte, un bilancio molto oggettivo, che è supportato anche da indagini che sono state effettuate da parte di soggetti terzi, i quali hanno verificato l'impatto di queste liberalizzazioni sul tessuto economico, sulla situazione, sui vantaggi che hanno prodotto verso le imprese grandi e piccole, sulle ripercussioni che hanno determinato sull'economia più in generale e sulla soddisfazione dei consumatori. Bene, il risultato è fallimentare su tutta la linea. Ricordo che i sostenitori di quel provvedimento, che erano in particolare i rappresentanti della grande distribuzione, che purtroppo hanno trovato ascolto nel governo Monti, ma il governo stesso, sostenevano che le aperture domenicali avrebbero prodotto un aumento di un punto, un punto e mezzo del prodotto interno lordo, avrebbero prodotto un aumento significativo dell'occupazione e, come conseguenza ultima, un aumento consistente anche dell'occupazione. I dati li conosciamo tutti e sono i dati di un'economia che sta vivendo una fase di recessione drammatica, il prodotto interno lordo nel 2012 si chiude con meno 2,4, il livello di disoccupazione ha superato le due cifre, siamo ultimo dato Istat 11,2 e nel Veneto siamo al 7%, i consumi sono tornati indietro di circa 20 anni. Allora, la conseguenza finale, il giudizio finale che possiamo dare è che questo provvedimento è un provvedimento che ha solamente creato molti visaggi alle piccole imprese, ha favorito un'occupazione di una fetta di mercato a favore della grande distribuzione e attraverso questa impostazione si sta creando un monopolio in questo Paese, il monopolio della grande distribuzione, perché ricordo solo un dato, già oggi il 70% della superficie dei generi alimentari sta nella grande distribuzione. Allora, vede, questi provvedimenti che non producono nessun effetto positivo a favore dell'economia, che dall'altra parte creano dei problemi, non solamente alla piccola impresa, perché le piccole imprese sono una parte importante del tessuto e della vita economica e sociale delle città. Per cui se mettiamo in crisi questo sistema, noi mettiamo in crisi le città stesse, perché le città senza attività commerciali, senza attività di servizio, perdono quelle funzioni che tradizionalmente e storicamente hanno sempre avuto e che io credo siano un valore che va salvaguardato in questo nostro territorio. Direttore, senta, c'è anche, rovesciando un po' la questione, i dubbi vantaggi di cui può godere anche una struttura come la realtà della grande distribuzione, per esempio la questione dei parcheggi, la questione della convenienza dei prezzi. Sono questi elementi, secondo lei, che possono giocare in maniera determinante anche, come dire, nel completo smantellamento di quello che è invece la piccola realtà commerciale, la bottega, per capirci? Io penso un po' questo, che la competizione tra grande e piccolo commercio ci deve essere, perché un paese moderno deve avere un'offerta diversificata, il consumatore cittadino deve poter scegliere. Il problema sta che se le scelte che vengono fatte sono tutte a favore invece di una sola parte, che si chiama grande distribuzione, ad escapito dell'altra fetta che sono i piccoli commerciati, allora c'è qualcosa che non funziona, perché il piccolo commercio sta perdendo competitività, perché stanno perdendo competitività le città. Allora i telespettatori devono capire che il tema è un po' più grande del problema del piccolo commerciante, qui ci si deve porre un problema di modello di sviluppo, e cioè dobbiamo chiederci in questo nostro Veneto, se riteniamo che le città siano un patrimonio che va salvaguardato, valorizzato, rilanciato, ricordo che se guardiamo un po' attorno a noi in Europa, le città stanno diventando il vero motore di sviluppo economico e culturale, da lì partono i grandi cambiamenti e le grandi trasformazioni. Allora se noi abbandoniamo le città a questo declino inarrestabile, perché non interveniamo nelle infrastrutture a partire dall'accessibilità alla città, alla riqualificazione delle città, ma soprattutto anche attraverso politiche e azioni che diano una competitività sul piano dell'offerta commerciale, perché uno dei grandi drammi che abbiamo vissuto in questi ultimi vent'anni è che si è molto sviluppata e cresciuta la grande distribuzione nelle aree periferiche. Hanno occupato aree verde, a volte agricole, a volte produttive, e diventerà anche quello un grande problema di riconversione tra un po' di anni. Tutti quei contenitori che io ormai li definisco scatoloni che diventeranno vuoti, tra un po' diventeranno un problema. Dall'altra parte, molte attività che una volta erano presenti di medie dimensioni nelle città si sono trasferite. Bene, noi abbiamo sempre sostenuto e fortunatamente l'ultima legge regionale che è stata approvata a dicembre dell'anno scorso e che dovrà trovare attuazione e correggenamento di attuazione, favorirà, renderà molto più semplice la possibilità di insediamenti di medie e grandi superfici nelle città e complicherà molto la possibilità di insediarsi fuori. Perché dobbiamo, anche da questo punto di vista, dire basta al consumo del suolo, dobbiamo anche affermare un altro principio che è quello di costruire sul costruito, riqualificare il costruito, perché altrimenti noi rischiamo davvero di occupare tutte le aree verdi che abbiamo in questo nostro Veneto. Ai Capanoni abbiamo aggiunto la grande distribuzione, io credo che adesso dobbiamo un po' riqualificare e mettere fine a questa urbanizzazione. Lei ha citato giustamente una legge regionale, il quesito che le ponevamo proprio all'inizio della nostra conversazione riguardava anche una battaglia che voi state intraprendendo, perché di fatto il governo ha avvocato a sé tutti i poteri decisionali senza considerare le diverse realtà. No, anche perché consideriamo che nel nostro stesso Veneto ci sono città storico-artistiche, città turistiche, città che magari d'estate si vuotano, insomma ogni realtà, ogni dimensione urbana poi ha determinate esigenze che devono anche un po' come dire correlarsi con quelle che possono essere le vocazioni economiche di questa o quella realtà. È per questo che noi abbiamo avviato una campagna di raccolta firme in collaborazione con la conferenza episcopale dei Vescovi per una iniziativa di legge popolare. Dobbiamo raggiungere a livello di paese le 50 mila firme. Già nel Veneto in questi primi due mesi siamo arrivati a 12 mila firme. Sì, l'obiettivo è di arrivare a 20 mila firme nel Veneto perché vogliamo riportare le competenze in materia di orari alle regioni perché il territorio può così in qualche modo articolare e definire i bisogni che hanno le imprese e i consumatori. Io voglio ricordare ai telespettatori perché anche qui c'è sempre un'informazione poco chiara o poco corretta perché assieme alle cose che dicevo prima, alle motivazioni per le quali si è arrivati alla liberalizzazione, un altro tema sul quale si fonda questo provvedimento è che noi dobbiamo diventare più europei. Allora non c'è nessun paese europeo evoluto, ma forse anche non evoluto, moderno dove ci sia la liberalizzazione degli orari e non ci siano delle regole. tutti i paesi europei, Francia, Germania, Austria, quelli a cui in qualche modo io credo noi siamo più vicini e dobbiamo anche fare un po', dobbiamo prendere a volte anche come esempio, hanno degli orari che sono uguali agli orari che avevamo noi precedentemente, cioè si aprono in questi paesi 8 domeniche all'anno, a volte anche meno, per cui io sono anche a volte un po' infastidito del fatto che alcune multinazionali francesi o tedesche vengono qui, o meglio venivano perché hanno trovato adesso soddisfazione, a protestare perché in Italia non si poteva aprire e già allora aprivano in Italia più di quanto aprivano nei loro paesi. Voglio solo ricordare un piccolo fatto di Cronat, a proposito sempre in materia di orari, in Germania ci sono i lender, hanno fatto anche lì la riforma federalista e hanno assegnato la competenza in materia di orari a un lender, ai lender. Quella è vera riforma federalista, scusate. Quella è una vera, adesso io conosco questa parte, quindi dovrebbe... No, siccome in Italia si è parlato tanto. In Italia non ho visto niente di riforma, di federalismo, ho visto solo le tasse che sono aumentate, va bene. Ecco, allora il lender di Berlino ha deciso durante il periodo del Natale di comprovedimento di far aprire quattro domeniche e poi ne ha aggiunte altre otto e cioè la situazione che avevamo noi nel Veneto precedentemente. Due organismi ecclesiastici hanno fatto ricorso, hanno vinto il ricorso perché il Tribunale ha detto che la domenica deve essere destinata a riposo e che l'economia non può avere il sopravvento sulla vita delle persone. Io credo che questo sia, diciamo, un dato molto significativo che noi dovremmo tenere sempre in considerazione. C'è un aspetto fondamentale perché, sa, distinto e forse alle prime battute di questa nuova situazione il pensiero, parliamo da cittadini ovviamente, poteva anche essere la domenica che bello, la comodità di poter fare la spesa con tranquillità. Però dobbiamo anche pensare che dietro alla realtà commerciale c'è un universo di persone che a loro volta si deve in qualche modo sacrificare. Vuoi che gli straordinari festivi siano importanti, tutto quello che vuoi ma una persona deve avere anche il diritto appunto a quel riposo insomma che non si può negare a nessuno. Perché noi dobbiamo, anche qui, intanto dobbiamo dire che le liberalizzazioni non hanno portato un aumento di consumi perché se non c'è capacità di spesa da parte dei cittadini e questo è un fatto tutto economico. Ma poi io penso che dobbiamo anche decidere a quale modello e stili di vita vogliamo fare riferimento. Io faccio riferimento appunto, come dicevo, ai paesi più evoluti e più moderni dove non vince il consumismo, vince un consumo responsabile che tiene conto di stili e di ritmi di vita che siano rispettosi dei tre fondamentali della persona che sono gli affetti, il lavoro e il riposo. Ecco, allora io credo che sia tutto qui in questo equilibrio tra un consumo responsabile e il rispetto, diciamo, di questi fondamentali della persona che poi si traducono nei fondamentali di una società che richiede appunto delle regole perché vede, i liberisti in questo paese sono tanti e molti di questi liberisti, a sproposito, pensano che il mercato debba regolare tutto. Invece i liberisti, quelli diciamo illuminati, sono quelli che, pur essendo liberisti come penso di esserlo anch'io, ritengono che il liberismo debba essere accompagnato da regole perché le regole sono quelle poi che riescono a regolare appunto una società in tutte le sue manifestazioni. E qui c'è un altro aspetto che in questo paese dove il semplicismo vince sempre su tutto accompagnato dalla demagogia per cui le cose serie sono sempre un po' difficili da fare e vincono queste cose qua, per cui si pensa sempre di risolvere, faccio un esempio, ho visto il periodo che siamo vicino ormai alla, anzi siamo già in campagna elettorale, questo è un paese dove ogni giorno si alza qualcuno e fa un partito e dice io salverò l'Italia. Il semplicismo, la banalizzazione delle cose senza mai un radicamento vero legato alla storia, ai problemi, al fatto che le cose non si risolvano mai così dalla sera alla mattina. Certo, ormai siamo arrivati a una frammentazione che ha del paradossale. Direttore, siamo quasi in conclusione della prima parte. Una curiosità, curiosità, un'informazione anche al cittadino. La raccolta di firme che voi state portando avanti, cioè una persona che si è interessata a mettere la propria di firma, deve recarsi nelle vostre sedi? Deve recarsi nelle nostre sedi oppure si può recare in tutti gli uffici comunali, perché in tutti gli uffici comunali si può andare a firmare per questa iniziativa. Per cui uno si presenta all'ufficio comunale e dice io sono qui per sottoscrivere. Sottoscrivere l'iniziativa Libera la Domenica, promossa da Confesercenti e dalla Conferenza Episcopale dei Vescovi. Noi continuiamo le nostre iniziative e nei nostri portali, nei nostri siti, diamo informazioni perché nelle piazze davanti ai sagrati delle chiese, per i prossimi due mesi continueremo a raccogliere firme, perché è stata straordinaria la collaborazione proprio fattiva da parte della chiesa attraverso i paroci che invitavano i fedeli che andavano a messa poi all'uscita ad andare a firmare. E lì era il momento in cui si raccoglievano ovviamente più firme. Benissimo, Libera la Domenica. Questo è importante, avete sentito, insomma, o negli uffici comunali appunto o nelle sedi di Confesercenti, che è una delle principali associazioni di esercenti commerciali. Noi ci fermiamo un momento, giusto per dare spazio ad alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi perché tra poco parleremo anche di saldi con Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti del Veneto. A tra poco. Seconda parte di 7 in punto con il nostro primo ospite di questa mattina di lunedì, 4 febbraio, siamo con Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti del Veneto. Come avevamo anticipato poc'anzi, insomma, abbiamo intanto un po' analizzato quella che è la problematica, la spina nel fianco dei commercianti relativa alle aperture domenicali. Adesso dedichiamoci a un tema di estrema attualità. Siamo ancora, come dire, nel vivo dei saldi che terminano il 28 alla fine di questo mese, però già è tempo di bilanci. Direttore, ormai da alcuni anni si fanno sempre gli stessi discorsi, no? Che in fondo i saldi non sono quella eccezionale risorsa che forse potevano essere un tempo, no? No, i saldi si sono modificati nel tempo, diciamo, perché si sono modificate le condizioni economiche del paese e soprattutto queste poi hanno condizionato anche i comportamenti dei consumatori. Che cosa è cambiato rispetto a che cos'era il saldo nel passato? Nel passato i saldi erano un momento di acquisto soprattutto emozionale, perché nei periodi di grande consumismo si acquistava molto e non c'era certo bisogno di aspettare i saldi per acquistare a meno, per prendere qualcosa. Si acquistava perché ancora oggi l'acquisto è un momento di soddisfazione, ma in quel periodo era praticamente tutto emozionale quella fase. L'acquisto emozionale è sparito ormai da molti anni. I saldi sono diventato un momento di acquisto molto razionale da parte del consumatore che posticipa l'acquisto e cioè non acquista nei mesi precedenti perché aspetta i saldi, perché nel periodo dei saldi sa che può avere degli sconti significativi che mediamente vanno dal 30% e poi nel tempo arrivano anche al 50%. I saldi continuano ad andare bene per questo motivo, i ricavi complessivi delle imprese diminuiscono ovviamente, ma i saldi continuano ad andare bene perché i cittadini consumatori acquistano in quel periodo quello che non hanno acquistato prima. Tra l'altro tutti i dati ci dicono che per circa il 70% dei consumatori quando vanno ad acquistare acquistano un prodotto che avevano già visto, conosciuto, di cui sapevano il prezzo e quindi ovviamente anche i vantaggi che poi riescono ad avere dello sconto. La numania dei saldi secondo me sta nel fatto che è anche la confusione che ormai si sta generando perché poi ormai i saldi iniziano prima anche se non ufficialmente. Io voglio sempre ricordare che la legge regolamenta la comunicazione, non vieta a nessuno di vendere a meno o di fare lo sconto quando entra, perché anche su questo a volte si fanno tutte, si aprono delle grandi discussioni. C'è sempre questo malinteso vendite promozionali, saldi. Deve essere chiaro che i saldi, la legge regolamenta la comunicazione, cioè il fatto che io scrivo fuori saldi, se invece io entro in un periodo che non è di saldi, è vicinissimo ai saldi e mi fanno lo sconto lo stesso del 30%, questo è possibile. Allora anche questo però è un fenomeno che si sta sempre più affermando, diciamo, le settimane prima si fa… ma perché tutto questo? Perché i saldi purtroppo, a mio avviso e a nostro avviso, cadono troppo dentro la stagione, iniziano troppo presto. La prima settimana di gennaio siamo in piena stagione. I saldi dovrebbero essere posticipati, secondo noi, di almeno un mese o un mese e mezzo, avere una durata di 10 giorni, già adesso noi sappiamo che i saldi funzionano i primi 10 giorni, perché tutti vanno ad acquistare nei primi giorni, perché sperano di trovare gli articoli che gli interessano, perché poi vanno ad esaurimento. Poi è un'agonia che continua fin tanto che non si fanno le nuove letrine con l'abbigliamento della nuova stagione. Allora, quello che noi pensiamo è questo. Purtroppo anche qui su questo bisognerebbe un po' ragionare, perché le competenze sono regionali. Sui saldi ci sarebbe la necessità, non so se togliere le competenze delle regioni, però trovare un momento unitario centrale per far sì che tutte le regioni iniziano i saldi nello stesso periodo. Perché qui la motivazione di anticipare costantemente nel tempo i saldi è quella di dire ma la regione vicina parte, noi cosa facciamo? E dobbiamo partire anche noi. È vero, perché altrimenti perdi sul piano della competitività. Allora, qui sui saldi io credo ci sarebbe la necessità di trovare un momento di coordinamento maggiore rispetto a quello che si è riusciti a fare fino ad oggi da parte delle regioni per arrivare a posticipare i saldi. Questo io credo sia una soluzione. Ed evitare un'altra possibilità che ogni tanto ritorna nella discussione, nel dibattito della liberalizzazione, perché anche qui la liberalizzazione in realtà c'è già, nel senso che su 12 mesi si possono fare 10 mesi di vendite, 8 mesi meglio, di vendite promozionali e 2 mesi circa di saldi. Rimangono fuori solamente 2 mesi. Ma perché dobbiamo mantenere questa separazione? Per garantire il consumatore. Perché nel momento in cui tu liberalizzi non potrai mai sapere il valore del prodotto. Perché se è costantemente la scontistica c'è sempre e tu pensi di acquistare questo paio di occhiali, lo vedi scontato del 30%, però tu non hai mai saputo quanto valeva davvero. E invece con i saldi e con le vendite promozionali, così come sono regolati, chi chiede la liberalizzazione? La chiede la grande distribuzione. Perché la chiede? Perché loro hanno una grande capacità di comunicazione e siccome saldi e vendite promozionali sono legati alla comunicazione, loro diventano vincenti, però il consumatore non avrebbe assolutamente nessun vantaggio, anzi rischerebbe di pagare di più rispetto a quanto paga adesso. Sì, il dato inquietante è che dalle notizie che trappelavano, anche proprio dalle categorie dei commercianti, si diceva che è già tempo di tirare le somme perché appunto, già come sottolineava lei, i primi dieci giorni sono quelli importanti. Adesso possiamo ancora pensare che ci sono più di venti giorni alla fine dei saldi, però di fatto è come se fossero praticamente congiunti. Non succede nulla in questi… Tenga conto che l'anomalia un po' del fatto che i saldi iniziano così presto, i saldi dovrebbero, le attività commerciali dovrebbero vendere i prodotti che già avevano a magazzino, dimostrato che avevano acquistato con fattura precedentemente. la grande distribuzione, i grandi magazzini non funziona così, i saldi diventano un momento di vendita dove fanno la produzione appositamente per i saldi. Allora ci sono delle cose che non funzionano, che dovrebbero essere regolamentate e che dovremmo capire che bisogna intervenire in modo serio su questi argomenti, però si tende sempre insomma a lasciare lì le cose, ne discutiamo sempre ogni anno, diciamo sempre le stesse cose e tutto rimane lì. Senta per concludere, il dialogo, il dibattito con la grande distribuzione è cosa quasi impossibile. Ma è impossibile perché non c'è una volontà, vogliono fare da padroni. Io trovo che questo sia un atteggiamento arrogante da parte loro e anche che non dovrebbe trovare ascolto da parte in particolare della classe politica, che invece io credo gli dia un po' troppo ascolto, perché anche rispetto al tema della liberalizzazione sta succedendo che nel Veneto, lo dicono i consumatori dall'indagine, c'è una grande confusione, uno dei problemi che emergono da queste indagini è che noi non sappiamo mai quando è aperto. Allora noi avevamo pensato, e l'assessore regionale era molto d'accordo, perché devo dire che da questo punto di vista l'assessore Coppola è sempre stata molto attenta, di fare un tavolo assieme anche alla grande distribuzione e dire definiamo non le 52, troviamo un equilibrio su 20, 24 domeniche, individuiamo le date, le comunichiamo in modo chiare a tutti, dopo c'è ovviamente ognuno libero di fare quello che vuole, perché non puoi imporre, c'è la legge, però se tra le parti sociali si trova un'intesa, i comuni partecipano a questa intesa eccetera, potremo regolamentare un po' tutta la materia, dare un'adeguata informazione e un segno anche di trasparenza e di conoscenza nei confronti dei consumatori. Da parte loro non c'è nessuna disponibilità, quindi andiamo avanti, noi raccoglieremo le firme, appena si sarà insediato questo Parlamento, noi chiederemo in questa fase ai deputati e senatori candidati nel Veneto di rispondere con un sì o un no, se sosteranno o meno questa nostra iniziativa di legge popolare nel momento in cui arriva in Parlamento e ce lo devono dire in maniera molto chiara, non ci devono rispondere ma forse vedremo, no, un sì o un no, perché qui il quesito è molto chiaro. Grazie a Maurizio Franceschi, direttore di Confese recente del Veneto, buon lavoro e buona fortuna soprattutto. Grazie altrettanto. Grazie al nostro primo ospite di questa mattina, rimanete con noi perché tra poco parleremo di temi sociali attraverso le pagine di un interessantissimo libro, tra poco.